Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long. Un saluto a voi tutte e tutti che siete in ascolto di questo momento di culto evangelico. Anche se distanti ognuna e ognuno nella propria casa la parola di Dio ci unisce e ci fa sentire parte di una grande famiglia. Vogliamo dunque chiedere al Signore di essere afferrate e afferrati dal suo spirito così che sappiamo riconoscere nel mondo i segni della sua presenza. Al Signore dal quale questa mattina riceviamo grazia e pace salgano le nostre lodi e il nostro canto. Amen. Vi leggo ora dal Salmo 77, i versetti da 11 a 14. Io rievocherò i prodigi del Signore. Sì, ricorderò le Tue meraviglie antiche. Mediterò su tutte le opere Tue e ripenserò alle Tue gesta. O Dio, le Tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la Tua forza tra i popoli. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, siamo felici di poterti lodare e poterti dire la nostra gioia. Grazie per la Tua parola che ci viene incontro, che ci accompagna e ci nutre lungo il cammino della nostra vita. Essa è molto di più che semplici parole scritte su di un libro. È la vita stessa di Dio che in Gesù Cristo si è data per la salvezza dell'umanità. Per mezzo di Lui hai fatto lievitare in questo mondo la presenza del Tuo regno. Hai fatto sgorgare in noi la speranza di nuovi cieli e di una nuova terra, dove ogni lacrima, ogni oppressione e ogni male scompariranno per sempre. Per questo, con tutti i testimoni di ogni luogo e ogni tempo, con la Tua Chiesa riunita oggi nella gioia, noi riconosciamo la Tua grandezza e le meraviglie che hai compiuto e che ogni giorno rinnovi. Che il Tuo nome sia glorificato. Amen. E ci parliamo, Padre con fervore, cantiamo a Te con cuor riconoscente Grazie a tutti. 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 chi parte senza certezze, ma con l'illusione di un futuro migliore. Per queste persone è rimasta un'unica possibilità mettersi in cammino senza sapere cosa riceveranno in cambio. Abramo partì. Certo non possiamo non pensare a tutti i rischi che questa partenza comporta, ai cambiamenti che la vocazione ricevuta porterà nella sua vita. Perché Abramo parte? Perché il Signore glielo chiede, ma anche perché suo padre, suo padre stesso, era già partito, come ci viene detto nel capitolo 11 del Libro della Genesi. Infatti gli spostamenti della famiglia di Abramo ripercorrono le grandi migrazioni del secondo millennio avanti Cristo, popolazioni che si spostano lunga quella che viene definita la mezzaluna fertile, da est verso ovest. La mezzaluna fertile è una regione storica del Medio Oriente che si estendeva all'incirca sugli attuali stati di Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Iraq, Kuwait, Iran e Arabia Saudita. Questa regione viene spesso definita come la culla della civiltà. Infatti fu nelle valli fertili dei quattro grandi fiumi, il Nilo, il Giordano, il Tigri e l'Eufrate, che si svilupparono le prime civiltà agricole, le prime grandi formazioni statali dell'antichità. Quindi era abbastanza naturale che ci si spostasse periodicamente. Perché allora il Signore chiama Abramo o più precisamente perché cosa, in vista di cosa? Probabilmente conosciamo la risposta attraverso la storia della salvezza. Il Dio creatore decide di stabilire un nuovo inizio. Vuole offrire la salvezza al mondo a partire da Abramo e la sua famiglia, da cui un giorno verrà Israele e per noi Gesù Cristo. Ma prima di arrivare a questa prospettiva più ampia, concentriamoci ancora un momento su Abramo e chiediamoci che cosa rappresenta per lui personalmente questa partenza. La chiamata pone Abramo in una situazione paradossale per diversi aspetti. Innanzitutto in relazione alle sue origini, alla sua discendenza. Per quanto riguarda le sue origini, in questo caso si tratta di suo padre. Abramo è chiamato a lasciare la casa di suo padre e la sua famiglia, ma così facendo ripete sotto altri auspici ciò che suo padre aveva fatto prima di lui. E poi ricordiamoci che porta sempre il padre nel suo nome. Abramo infatti significa il padre è grande. allora vi chiederete probabilmente quando è che Abramo cambierà finalmente il suo nome e diventerà padre di una moltitudine. Ma bisogna avere pazienza. Prima dovrà compiere un lungo cammino. Prima il cammino, il rischio e poi la soluzione. Come ci viene detto, parti e va nel paese che ti mostrerò. La seconda relazione paradossale di Abramo, quella rispetto alla sua discendenza, è che in effetti lui non ne ha. Lui e sua moglie sono vecchi, lo sappiamo, e non hanno figli. Certo si è preso cura di sua nipote Lot, ma la sua discendenza esiste solo nella parola di Dio. Io farò di te una grande nazione. Possiamo solo immaginare a quale tensione è stata sottoposta la vita di Abramo fino alla nascita di Isacco. La chiamata di Dio pone dunque Abramo in una situazione di paradosso e di tensione, che si risolverà solo percorrendo un lungo cammino. Egli lascia la sicurezza di una città e va incontro ad un'esistenza precaria, diventando seminomade, avanzando di pascolo in pascolo col suo gregge, commerciando con gli abitanti dei paesi delle città cananee, spingendosi nelle lande desolate per pascolare durante la stagione secca e adattandosi a diversi contesti, a diverse culture, clan e tribù, cercando di andare d'accordo con tutti. Dov'è allora la promessa di Dio? Che senso ha questa nuova esistenza di Abramo? Nell'immediato, alla certezza della protezione di Dio. E questa è una cosa preziosa. Ma la cosa più importante è il lungo termine. Dio promette una discendenza. E poi qualcosa che va oltre Abramo è il suo piccolo universo familiare, e cioè la benedizione. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, tutte le famiglie, i clan, le tribù. La benedizione a lungo termine richiede un lungo cammino per concretizzarsi, per arrivare fino ad oggi. E oggi noi che in un certo senso siamo discendenti di Abramo, secondo la fede, sentiamo gli effetti di questa benedizione? L'abbiamo ricevuta? E se sì, quali conseguenze ha per noi? Nella grande storia della salvezza, Abramo è il padre dei credenti, non soltanto in linea con l'ebraismo e il cristianesimo, ma anche con l'Islam. Abramo è la figura tutelare e ispiratore di tutto ciò che è incontro, accoglienza reciproca, generosità, riconoscimento di una fede profonda che trascende le separazioni dogmatiche. In ognuna di queste religioni la fede di Abramo è ispirazione e incoraggiamento. E quando si tratta di avere pazienza, ma anche quando parla a Dio in modo diretto, quando pratica l'ospitalità, ma anche quando fa le domande sulle questioni che lo riguardano. Abramo non è privo di difetti, ha anche lui le sue colpe e capita anche a lui di non essere giusto. Anche lui, come noi, ha bisogno della grazia di Dio. La benedizione di Abramo ricade su di noi in molti modi, sta a noi coglierla a nostra volta. Oggi vedo anche un'altra dimensione della benedizione di Abramo che può avere degli effetti nella nostra realtà. Torniamo all'inizio del cammino dove Abramo decide di avere fiducia in Dio, di seguire la sua vocazione e partire per una vita diversa. Lasciare le sue certezze, la sua vita di tranquillo cittadino, per diventare un nomade che dovrà costantemente negoziare il suo spazio nei territori che attraverserà. E Abramo lo farà molto bene. Segnerà il suo passaggio, le sue soste, con degli altari per ringraziare Dio, dei luoghi in cui fermarsi per ascoltare Dio. Abramo porterà al mondo che percorre la sua presenza benefica, una dinamica positiva, un arricchimento delle reti umane. Il culmine sarà certamente la sua intercessione per Sodoma e Gomorra, città sulle quali incombeva il castigo di Dio a causa dei loro peccati e per il quale Abramo negozierà con Dio la loro salvezza, se troverà anche soltanto dieci giusti. È da questi molteplici atti che la benedizione è offerta al mondo. E allora per concludere, nei tempi di crisi che viviamo oggi, l'atteggiamento di Abramo può ispirarci in molti modi e ricordarci con forza che anche noi abbiamo la benedizione da condividere secondo la volontà del Dio d'Abraamo. Amen. Eccomi, eccomi, manda a me. Nel bravesse tua, Signore, eccomi, manda a me. Eccomi, 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 manda a me. Eccomi, eccomi, manda a me. Eccomi, manda a me. Col messaggio tuo, Signore, eccomi, manda a me. Eccomi, manda a me. Chi vuol federsi, chi vuol seguirmi, chi vuol federsi, chi vuol seguirmi, se vai agli affritti poveri, amando del mio amore. Eccomi, eccomi, manda a me. Eccomi, eccomi, manda a me. Nel servizio tuo d'amore. Eccomi, manda a me. Eccomi, manda a me. Eccomi, manda a me. Un cambiamento che ci mette in cammino. E allora mettici in cammino verso coloro che hanno fame. Facci riscoprire la gioia della condivisione. Mettici in cammino verso chi fugge dalla guerra e dalla povertà. Preparaci ad accogliere queste persone nella loro diversità. Mettici in cammino verso chi è emarginato. Conducici nella via della loro sofferenza. Mettici in cammino verso chi è disprezzato o detenuto. Ricordaci che ha diritto ad essere rispettato. Mettici in cammino verso chi è ammalato. Ispiraci il dono di una visita. Mettici in cammino verso quanti esercitano un'autorità in questo mondo. Fa che ognuno di noi, per quanto gli spetta, assume le proprie responsabilità. Infine, ti preghiamo per la tua Chiesa. Insegnala ad esserti fedele. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Amore, 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 amore. Vi libererà dalle paure di ciò che non conoscete, dissiperà i vostri dubbi e vi aiuterà a trovare la vostra strada. Prendetevi il tempo per riflettere, ricercate la bellezza, scegliete il meglio, siate contenti e felici. L'amore abiti nei vostri cuori, possa il Dio delle vostre vite darvi la pace. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long. Grazie a tutti.